Amici sportivi, gli highlights di questa settimana sono offerti da Commit SRL, azienda specializzata nella lavorazione e commercializzazione dell'acciaio con sede a Veggiano in via dell'Industria 23. E trivellato SPA, concessionario ufficiale Mercedes-Benz per le province di Vicenza, Padova e Rubico. Andiamo a vedere insieme le immagini del match. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.